I dati delle analisi compiute sulla discarica Amiuditrani tornano a destare preoccupazione, emergono ancora presenze di inquinanti nelle falde acquifere non solo all'interno dell'area della discarica ma anche nelle aree esterne. Per cui questa mattina il commissario prefettizio Maria Rita Iaculli ha adottato un'ordinanza urgente relativa al divieto in via cautelare e precauzionale di prelievo e utilizzo anche per soli fini irrigui dell'acqua sotterranea da tutti i pozzi privati all'esterno del perimetro della discarica di Contrada, Puro Vecchio e distanti da esso non meno di 500 metri. Il provvedimento si è reso necessario in conseguenza degli esiti delle iniziative di accertamento e analisi eseguite dall'Amio nonché degli esiti di una conferenza di servizi che si è svolta in regione nei giorni scorsi e proprio in riferimento a questa conferenza di servizi è intervenuto il presidente della provincia di Barletta, Andrea Trani, Francesco Spina. ...che confermano che c'è ancora una continuazione di quelle tracce di infiltrazioni nella falda di inquinamento da parte della discarica di Trani, discarica che è stata anche sottoposta a sequestro di carattere penale che naturalmente vede anche una inibizione di un'attività per un provvedimento mi sembra di carattere regionale, di carattere amministrativo in precedenza del 4 settembre, per cui in ragione di queste situazioni c'è stato anche un contenimento e una diminuzione di quelle che sono le tracce di inquinamento nella falda e quindi questo è un dato in parte confortante, in parte con una nota della regione che è un po' apposta alla provincia, l'attenzione, la situazione, ho ritenuto opportuno adottare, dare indirizzo di farlo al più presto anche sul piano tecnico, di adottare questa ordinanza che è un'ordinanza che va chiaramente a porre delle questioni, dei paletti, diciamo anche di interventi specifici per andare ad eliminare definitivamente in modo radicale queste infiltrazioni nella falda del territorio tranese da parte della discarica di Trani, quindi è un atto sul piano amministrativo ritengo un atto molto importante, soprattutto un atto da una parte è coraggioso e forte perché noi sappiamo i risvolti che ci sono rispetto a queste decisioni anche di carattere amministrativo, per intenderci, parlo anche dal sindaco, il non utilizzo della discarica di Trani comporta obiettivamente un aggravio di costi nella gestione e nel ciclo dei rifiuti per i nostri territori perché è evidente che dobbiamo andare a scaricare altrove con costi che sono maggiori rispetto a quelli che avremmo se scaricasse una città di Trani.